Allora ragazzi qui di dojo, oggi andiamo avanti con Abe, ok Ho aperto la porta, la combinazione me l'avete scritta voi, era 166 Scusate ragazzi ma sono rincoglionito e non ce la facevo E anche perchè era x per x più x e io facevo x per x per x, comunque nella scorsa parte ho fatto una figura di merda spero di non farla pure qua, andiamo avanti ok, un'app una mela scolpita bla bla bla, mela di legno wow che culo, ora c'è una mela di legno e nessuno può fermarmi vero alberi? ok, aspettate che li esamino tutti, perchè non si sa mai in sto gioco comunque un gioco molto molto bello dai molto molto particolare, è carino e ora che ho la mela, non so fra l'altro, che cazzo fare? vuoi la mela? vuoi la mela vero? vai, tieniti la, aspettate ah no aspettate, questo qua gli oggetti se li usa da solo questo cosa di, uh le labbra tieniti la mela, bagaccia si dai la mela, si, vai bla 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 mmmm, mi stessi devo passare a ok perchè ho fatto quel verso? ok, ghigliottina abbassata ghigliottina a metà ghigliottina alzata ghigliottina in cima ghigliottina semivisibile ghigliottina che non si vede rossita esta noce me, eh no rossita esta noce mi brude le dita ghigliottina vai, mangia che è buona mangia la mela vai, mangia la mela ok una ghigliottina ok, mica bastardata questa eh uh oh 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 la ghigliottina non mi prende più oh oh daib daib piccola barbie no, c'è di bello che finalmente per un non è un gioco con uno stereotipo della ragazza barbie una ragazza normalissima I'm a barbie girl in a barbie wall life is plastic it's fantastic aspetta un attimo che salvo cazzo ok you can brush me and dress me everywhere uh uh va bene eh ragazzi poi se volete potete mettervi come suoneria il I'm a barbie girl come avete potuto capire la storia della barbie era per solamente per far don't oh oh che schifo ok ok la storia della barbie era solamente per far partire il oh mia barbie girl oddio battito cardiaco uh uh ok uh uh ancora guarda quella lì che brutta è chiusa ecco no non mi dire che wow 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 smettila con questo fare così ah ok perché sono così stupido ok 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 seminala 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 come neanche fariste in un grano in un campo di grano ok c'è qualcosa chiave rossa baby ok la donna in rosso vai ok libri 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 la donna nelle canvas non fare rocus non fare rocus non fare rocus non fare rocus ok c'era c'era scritto solo quello ragazzi dai basta che palle oh no ok ah guertena non era il non era il pittore di quel no il pittore vabbè comunque uno di quegli artisti che abbiamo incontrato nella prima parte magari poi mi sono sognato tutto ragazzi moving storybook written joy xx no no cosa ho fatto non l'ho neanche letto cosa ho fatto mio dio ok finito c'è stato un suono vabbè non costringermi a rifare tutto questo no 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 ok questa è comunque aperta c'è stato un suono eh che non si poteva confondere eternal bless oh aspetta no aspetta ah ok episodio 2 ep2 siamo già al capitolo 2 minchia meno male qua eh when the rose bla 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 va bene non c'è acqua io la bla 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 ok specchio è window ah no no la finestra come fa esserci una finestra che dà su vabbè c'è sangue per terra me ne può fregare di meno sto punto la donna in blu no ok è chiusa e io me ne sbatto oh oh ok basta me ne vado di qua che triste oh cos'è quella affare lì eh art cos'è cosa no no non provare all'azza ug is holding tightly onto a key ho ottenuto la chiave piccola ah ah questo ci aveva piccola la chiave c'è una lingua di un pedofilo oh no ancora questi posso? una statua senza testa ah basta finito qua così smuoviti di lì cosa devo fare ok me ne vado vaffanculo me ne vado proprio di qui ok siamo a 7 minuti a qualcosa e ciò è un bene perché la mia gola mi sta massacrando si chiave piccola no basta ok oh che cazzo di suoni però oh non mi becchi cos'è questo stool che cazzo è uno stool oh la rosa oh la rosa blu paparapapu ok oh batti la pappa oh mio dio può farlo ok ok me ne vado 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 no 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 ok ok mio dio la mia gola non devi andare di lì devi dare la rosa alla tipa e te è svenuto ciao ciao nido anche da svenuto te la rosa blu come no come no oh aspettate magari la vuole lui sicuramente la vuole lui ok niente niente da fare ragazzi quindi che faccio quindi che faccio potrei uh niente ogni volta che voglio rottare in video non ci riesco smettila uh cos'è sta roba eh no 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 sta arrivando ok ok che cazzo devo fare non lo so no scusate ma c'ho due uscite sto posto no ovviamente però rosa blu al mostro blu aspettate no rosa blu cosa ci faccio con la rosa blu io come inventario cosa c'ho c'ho una rosa rossa e una rosa blu quindi me ne sbatto il cazzo scusate che cazzo ci faccio con oh ma che bella corna musa bref bref che cazzo sto facendo sto andando indietro io non so cosa devo fare qua non so secondo me devo vedere cos'è quello stool porta posso rubare un coccio posso potrei rubare un coccio veramente cos'è sto stool ah è uno sgabello in verità cos'è sta roba si ma se non mi fa raccogliere la roba lei ma come posso io andare avanti se sono impossibilità piazza la rosa blu vediamo wow ora piazzo la mia quindi ora che c'ho la rosa blu fica ah forse posso dalla tizia vediamo tizia ti regalo la rosa blu cosa dici ma va bene lido vediamo no cazzo ok niente facciamo così stop questa parte qua vado a vedere una guida vado a barare come al solito ci vediamo nella prossima parte lasciate un mi piace un commento diventate un fa sulla fanpage iscriviti questo youtube vado a ragazzi ciao